Ilari Blasi mamma e zia a tempo pieno. Da quando la conduttrice è tornata dalla vacanza in Sud America con Bastian Muller si sta dedicando quasi totalmente ai suoi figli, in particolare a Isabel, la più piccola. Ilari Blasi ha fatto anche da zia la figlia della sorella Melory, Jolie, e le due bambine oggi hanno dato sfogo alla loro creatività. Le due si sono improvvisate make-up artist, hair stylist e anche stiliste e hanno truccato, acconciato e vestito Ilari per un evento che attendevano da giorni, andare al cinema a vedere Barbie. Il risultato non ha convinto molto la conduttrice che infatti su Instagram ha condiviso un selfie con scritto, secondo loro dovrei andare così, fuori di testa. Per Blasi avevano scelto una tutina in fucsia attillatissima, i capelli legati in una coda di cavallo e poi oltre al blush e al mascara una linea di eyeliner molto marcata, le due artiste erano molto soddisfatte del risultato, a differenza della loro modella. Nelle storie successive Ilari fa vedere che è andata allo spettacolo pomeridiano di Barbie e insieme a Isabel e Jolie ci sono altre due bambine, forse amiche delle bimbe. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.